Immagina di svegliarti al suono delle onde che si infrangono dolcemente sulla costa, e il sole che sorge su un paesaggio mozzafiato pieno di meraviglie storiche e bellezze naturali. La Grecia vanta una moltitudine di sistemazioni di lusso, ciascuna delle quali offre esperienze uniche per soddisfare diversi gusti e preferenze. Qui esamineremo 7 dei migliori hotel in Grecia, perfetti per rendere la tua vacanza davvero memorabile. Per primo, l'iconico Hotel Grande Bretagna d'Atene. Situato nel cuore della città, questo storico hotel è un simbolo di lusso dal 1874. Gli ospiti possono godere di viste mozzafiato sull'acropoli, sul Parlamento e sullo stadio olimpico originale dal Giardino Pensile. Gli interni sono una combinazione di eleganza classica e comfort moderni, offrendo un'esperienza regale. Successivamente, esploriamo le incantevoli canave Soia Suizza Santorini. Arroccato sulle scogliere di Oia, questo hotel offre viste spettacolari sulla caldera e sul mare Geo. Le suite sono elegantemente progettate con decorazioni minimaliste e dispongono di piscine private e terrazze che offrono l'ambiente perfetto per una fuga romantica. A Mykonos, l'hotel Cavo Tagù si distingue come un faro di lusso e raffinatezza. Conosciuto per il servizio eccezionale e l'architettura mozzafiato, il Cavo Tagù fonde armoniosamente elementi naturali con design moderno. Gli ospiti possono godere di piscine a sfioro che sembrano fondersi con il mare, offrendo un'esperienza di relax e bellezza senza pari. Per coloro che cercano tranquillità, la Manzoe a Porto Eli offre un paradiso isolato. Questo resort è progettato per assomigliare a un'antica acropoli, con padiglioni e ville che offrono viste panoramiche sul golfo argolico. La Manzoe è rinomato per i suoi programmi di benessere olistico, il club di spiaggia privato e le esperienze culinarie squisite. L'hotel King George ad Atene offre un soggiorno maestoso con la sua architettura neoclassica e gli interni opulenti. Situato in piazza Syntagma, offre facile accesso ai siti storici e alla vivace cultura della città. Il ristorante Tudor Hall, con vista panoramica sull'acropoli, è un punto di riferimento per gli ospiti. Sull'isola di Creta, il Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, offre una combinazione di fascino tradizionale greco e lusso moderno. Affacciato sul golfo di Mirabello e sull'isola di Spinalonga, questo resort dispone di ville private con piscine a sfioro, una spa di classe mondiale e una varietà di opzioni gastronomiche che celebrano la cucina cretese. Infine, Mystique, un hotel luxury collection a Santorini, è una squisita fusione di eleganza e bellezza naturale. Costruito nelle scogliere di Oia, il Mystique offre viste spettacolari sulla caldera e sulle acque blu profonde del mare Geo. Le suite e le ville, con la loro architettura a grotta, offrono un rifugio unico e lussuoso. Questi sette hotel rappresentano il meglio che la Grecia ha da offrire, ciascuno offrendo un'esperienza indimenticabile che combina lusso, storia e bellezza naturale. Quale di questi hotel di lusso sceglieresti per la tua prossima avventura in Grecia? Condividi i tuoi pensieri e le tue esperienze nei commenti qui sotto.